In un mondo in continua evoluzione dobbiamo essere sempre pronti a aggiornare il nostro sistema operativo. Ognuno di noi è guidato da idee che portano a risultati spettacolari e altre che ci limitano nell'operato. Ogni volta che parlo con un imprenditore mi rendo conto che la difficoltà più grande che riscontra nello svolgimento della sua attività è legata alle persone. Sentirsi soli nella gestione dell'azienda in questo momento è molto comune e altrettanto comune sentirsi delusi dai propri collaboratori. Frasi del tipo sono molto occupato non ho tempo rientrano ormai nel vocabolario della maggior parte degli imprenditori. Quindi come uscire da questo loop? Per scoprirlo ti aspetto all'executing business class dove affronteremo questo argomento con lo stile 1816 da imprenditore a imprenditore. Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e conferma subito la tua presenza in ABC. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!